Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qui a un altro di questi incontri un po' particolari e strani quest'anno dove si presentano persone che non si conoscono, che non si sono o quasi, soprattutto si presentano persone che non sono presenti, si parla a uno schermo pieno di faccine con il terrore che tutto da un momento all'altro sparisca, quindi buonasera, grazie a tutti, Andrea, il nostro intrepido capitano coraggioso e appunto a Linda che mi sta accanto e soprattutto alla nostra ospite Monica Pareschi che ho visto e con la quale ho parlato solo da lontano, mail, telefonata, con la quale comunque direi che si è stabilita un canale di comunicazione e simpatia se non altro nel nome di Cime Tempestose che è uno dei grandi romanzi della formazione, della Bildung femminile di tutte noi ragazze di lunga durata e che sarà al centro del suo racconto tra pochi minuti. presentare Monica Pareschi, Monica Pareschi la presento e so che lei le piace questa cosa perché è di fatto una traduttrice, più volte nelle breve conversazioni che abbiamo avuto mi ha ripetuto, guarda che io non sono, non sono un'accademica, non sono una teorica, non sono una filologa e naturalmente la mia risposta e sono sicura che la risposta di tutti quelli che sono qui è meno male, non perché naturalmente abbiamo niente contro nella filologia né teoria della traduzione che anzi fa parte del nostro master e neanche con l'accademia se la prendiamo la parola nel senso buono del termine, ma perché lo spirito di questa officina è appunto quello di entrare nella bottega del traduttore, vederlo al lavoro con i suoi arnesi, con le sue difficoltà, con le sue soluzioni, con le sue scelte. Quindi traduttrice e che traduttrice? Nel preparare questa piccola presentazione, ovviamente come facciamo tutti con Google, sono rimasta colpita dalla quantità, ma ancora di più dalla varietà del lavoro di Monica che ha tradotto tantissimo e testi di genere diverso, dei grandi autori classici, oltre a Emilia Charlotte Bronte di cui ci parlerà, classici nel senso abbastanza lato, cioè anche classici contemporanei come Dois Fletcher, Willis Park, Willa Carter, Molte donne, come vedete, e tra l'altro vedo anche, ho visto anche che per Neri Pozza Monica cura la collana, le grandi scrittrici dedicate appunto ai classici femminili. Molte donne ma non solo, naturalmente, Paul Oster, Ballard, Malamud, naturalmente non ve li elenco tutti, vi deco, lo scozzese James Hogg, che è il primo doppio della letteratura inglese, forse ci intravedo nelle sue traduzioni una certa propensione per il gotico, una forma di horror, poi anche tante contemporanee, sia inglesi che americani, e anche autrici o autori giovanissimi, non so se l'ultima, ma comunque una recentissima opera, una recentissima traduzione di Monica Pareschi, è il volume di Jasmine Watt, che poi mi sono incuriosita da una recensione, lo sono comprata, me lo sono letto, ed è davvero un'afroamericana nata nel 77, tutta la, Monica ha tradotto tutta la trilogia, e anche lì è un linguaggio davvero, che sicuramente presenta una serie infinita di questioni. Ecco, allora, appunto, lo spaziare di Monica nel tempo e nello spazio, appunto, mi ha colpito, anche con un po', con una punta di invidia, perché tradurre è una cosa bellissima, ed è una cosa anche che ti tiene compagnia comunque, ti tiene impegnato, mi viene in mente, la settimana scorsa forse era la cosa del tradurre in pigiama, quello che traduceva in pigiama, e perché è vero, dico, forse solo la traduzione, ti prende talmente tanto che ti alzi, ti metti e traduci tutto il giorno. Vabbè, infine, ultima cosa, questa è anche, oltre che traduttrice, è anche scrittrice, ha scritto un libro di racconti, che io mi metto, dal titolo molto bello, è di vetro quest'aria, appunto, che però non ho letto. Il titolo di oggi, La reinvenzione del passato, voce e voci in cime tempestose e genea, ci indica, ci segnala da subito, uno, un tema di grandissimo interesse, che è proprio quello delle traduzioni e delle ritraduzioni, dei grandi classici, e di che cosa vuol dire, appunto, ritradurre, cioè la traduzione che non è soltanto un trasportare da una lingua all'altra, da una conduttura all'altra, ma anche, appunto, da un tempo all'altro. Quindi, allora, la parola a Monica, di nuovo, grazie di essere con noi, e ci prepariamo ad ascoltarti. Allora, grazie a voi, grazie in primo luogo ad Andrea, che mi ha invitata, e ovviamente a Giovanna, che ho sentito, appunto, solo per telefono, ma, insomma, ci siamo raccontate un po' di cose, e quello che dice è corretto, lei ha una visione, forse, un po', un po', un po' rosea della nostra vita di traduttori tuttofare. Io sono effettivamente una traduttrice che ha attraversato generi e luoghi, perché traduco americani, traduco inglesi, o tradotto scozzesi, insomma, australiani, quindi sono veramente poco, io mi sento poco specializzata, ma ho ovviamente delle mie tradizioni, e il lavoro, diciamo, insomma, il lavoro più grosso di questi anni è quello più grosso, per me è più importante, insomma, è quello di cui vi parlerò questa sera, e vedo anche, ho visto apparire facce e facce nomi noti, ho visto Daniele Petruccioli, forse Elisa Banfi, insomma, persone che conosco, amici, quindi grazie, grazie a tutti per essere qui, spero di non dire troppe banalità, qualcuna sicuramente sì, l'avrete già sentita, è una piccola precisazione, io ho curato effettivamente la collana dei classici femminili per Neripozza per un paio d'anni, ma non, un paio, due o tre anni, adesso non ricordo, ma non è più mia la curatela, quindi, però, ecco, per esempio, Jane Eyre è uscito in quella collana, quindi, e ecco, io sono sempre un po' leggermente a disagio quando, ma lo dico in modo, cioè, sono felicissima di essere qui, un leggero disagio quando mi si chiama in ambiti accademici, o anche no, insomma, dove si ragiona di traduzione, perché facendo questo lavoro così a tempo, quasi pieno, eccetera, è diventato talmente connaturato con la mia esistenza, da essere diventato proprio un modo di essere, per cui quando mi si chiede di parlare di traduzione, ho subito un... dico, ma cosa devo dire, come, veramente è un po' come parlare del sonno, del respiro, insomma, di un qualche cosa che si fa ogni giorno, che è talmente, appunto, quotidiano e su cui non si... cioè, ovviamente si riflette, ma il tipo di riflessione che sono chiamata a fare qui è di tipo diverso, quindi, insomma, ci provo. Ovviamente non è una lezione, anche se mi capita, mi capita ogni tanto di insegnare, tengo un corso di traduzione alla Cattolica a Brescia e così è uno dei paradossi della traduzione di cui si parlava, credo, in questi giorni, nei primi incontri, qualcuno ha detto la traduzione è impossibile, però la si fa e anche l'insegnamento della traduzione, mi viene da dire, è un qualcosa di abbastanza arduo, soprattutto per chi non ha un approccio teorico come me, ma poi alla fine, appunto, paradossalmente, la si insegna anche oltre a farla, oltre a parlarne. Allora, una piccola premessa sul metodo mio di traduzione che, insomma, mi rendo conto di dover fare. Ecco, anche qui il paradosso è che io dubito di averne uno, perché proprio caratterialmente sono una persona poco metodica, se non quello proprio di avere questa frequentazione così molto diretta e quotidiana con le parole, col modo in cui le parole in un'altra lingua si combinano e come cosa diventano quando vengono trasposte nella nostra di lingua, come si riaggiustano, come varia la sonorità tra le lingue, insomma, questo continuo andirivieni tra un idioma e l'altro, tra una cultura e l'altra, che appunto, dicevo, è quotidiano ed è fatto, avviene senza grandi schermi di tipo critico, perché è vero che io ho una formazione universitaria letteraria, insomma, ho studiato lingue, letterature, però quando mi pongo davanti a un testo, per lo più io credo, insomma, sono abbastanza portata a fare un certo spazio, un certo vuoto e così avvicinarmi in modo diretto e senza, possibilmente senza preconcetti. Ovviamente questo può essere visto, mi viene da riflettere, può essere un vantaggio, nel senso che si arriva senza il testo, forse arriva in modo appunto meno filtrato e più diretto e allo stesso tempo, chiaramente, a noi traduttori puri, come li ha chiamati Andrea nel suo preambolo a questi incontri, mancano degli strumenti critici che forse i traduttori, i professori, i filologi, eccetera, hanno sicuramente, quindi immagino che ci siano dei pro e dei contro, è un po' anche la stessa discussione avviene quando ci si domanda se gli scrittori possano essere dei bravi traduttori, perché chiaramente lì c'è un altro tipo di rischio di sovrapporre una lingua, una lingua personale a quella del testo originale, quindi insomma diciamo che ogni metodo di traduzione, ogni punto di partenza ha i suoi rischi e ai suoi vantaggi. Ecco, dunque io ogni tanto guardo i miei appunti perché sono, insomma ne ho bisogno, sono poco abituata a questa forma di comunicazione. Ecco, dicevo appunto di questo incontro che con le parole che nella mia officina personale avviene così proprio in modo piuttosto libero, quanto più libero possibile da sovrastrutture esterne al testo e appunto questo è il modo in cui lavoro io. Se non che nella fattispecie, parlando di questi due lavori, chiaramente questo approccio è un po' misto rispetto al solito, perché ovviamente sono due testi che io conoscevo, conoscevo anche piuttosto bene per averli letti, studiati, riletti nel corso della vita e anche perché si tratta di due testi che si portano dietro tutta una serie di suggestioni, di corollari mentali e affettivi che davvero vanno anche oltre l'esperienza letteraria che uno può averne fatto nel tempo. Sono due romanzi molto radicati nell'immaginario di noi tutti, credo, in particolar modo nell'immaginario femminile. Sono sta questo anche molto prima dei Women's Studies che hanno in qualche modo restituito una forte dignità letteraria ai libri delle Bronte come delle altre, insomma, scrittrici vittoriane e non, ma nel frattempo diciamo che la fruizione di questi testi, il pubblico a cui erano destinati questi testi, ne ha un po' così modificato e ampliato anche l'influenza. pensiamo veramente, soprattutto Cime e Tempestose, ma anche Jane Eyre, hanno fatto parte a lungo delle biblioteche, della biblioteca delle donne, della generazione, di mia nonna, di mia madre, come proprio libri che facevano parte dell'educazione sentimentale delle ragazze. Io credo che questa accoglienza che ha avuto, questa destinazione, accoglienza che ha avuto, soprattutto in Italia, a meno in Inghilterra, chiaramente nei paesi anglosassoni sono stati riconosciuti molto prima come capolavori classici a tutti gli effetti. Qui erano i classici libri da ragazzine, da donne. Io credo davvero che questa accoglienza del pubblico in Italia in un qualche modo abbia diretto, dato una direzione poi anche alla lingua della traduzione qualche volta. È anche vero che sono diventati noti, ai più, nemmeno attraverso la lettura, perché hanno avuto una serie di riduzioni cinematografiche, sequel. Io addirittura ricordo, quindi da una parte la letteratura popolare e anche il cinema, no? Ricordo addirittura quando ero bambina di essere incappata in un fumetto che si intitolava La voce nella tempesta e appunto passavano un po' attraverso queste forme popolari. Ci sono ovviamente state, ci sono stati film famosissimi, quello con Lorenzo Livier e anche altri, insomma, quello degli anni 90 come Juliette Binoche, la Genère di Zeffirelli. Insomma, anche per chi non aveva una frequentazione dei testi, c'era un immaginario legato sicuramente a queste traduzioni extra letterarie. hanno avuto una vita extra-libresca, extra-letteraria estremamente fortunata. E io arrivo a pensare che questa grande influenza popolare abbia in un qualche modo anche influenzato proprio le prime traduzioni perché si è iniziato a tradurli più o meno negli anni 40. Credo che la prima traduzione di Cime Tempestose sia negli anni 40 del secolo scorso. Credo che la prima traduzione di Cime Tempestose sia del 1944. Giovanna, se dico una stupidaggine tu correggimi, ma credo che sia così. E insomma, quindi, io credo veramente che questo fatto che le prime traduzioni abbiano molto edulcorato edulcorato certi contenuti che invece sono contenuti estremamente trasgressivi, molto forti, molto perturbanti, in un qualche modo abbia a che fare con questa fruizione popolare, con questa vita extraletteraria di questi testi. E io stessa devo dire che mi penso come traduttrice pura, come dicevo, ho visto proprio, soprattutto dopo averli tradotti, ho ravvisato nelle mie traduzioni degli elementi che, delle influenze che vengono, che derivano da questa vita extraletteraria. io sono un'appassionata di cinema, quindi, mentre traducevo, anche prima, avevo visto, avevo cercato di vedere quasi tutti i film tratti sia da Jane Eyre che da Cime Tempestose e è molto probabile che quelli, cioè le traduzioni, le trasposizioni cinematografiche che mi hanno colpita di più, che mi sono, mi hanno convinta di più, in un qualche modo facciano parte di questo mio bagaglio pre-traduttivo, ecco, quindi magari al posto di un bagaglio, di un ipotetico bagaglio critico, canonico, io credo effettivamente di aver avuto questo, così, questa lente un po' che mi derivava da queste, per esempio dalla visione di alcuni di questi film. Per essere più precisa, un film che io amo molto ed è una riduzione, credo, per me è la più bella di Cime Tempesto, di Jane Eyre, è un film del 44, di un regista che si chiama Robert Stevenson e proprio per essere girato, essere stato girato in quel periodo, è un film con un'estetica fortemente espressionista, molto cupo, molto fa pensare un po', non so se qualcuno di voi probabilmente ha visto, conosce i film di quel grande regista danese che è Carl Theodor Dreyer che è stato maestro di Bergman e in particolare Die Eyre è un film che secondo me io penso che questo regista abbia visto Die Eyre perché veramente l'atmosfera è molto è molto vicina, cioè c'è questa idea di questo puritanesimo estremo di alcune figure per esempio il direttore del collegio di Lowood questo mister mister Brockhurst che è una figura terribile nella sua integrità puritana e nemica della natura ci sono dei passi molto forti nel romanzo e nel film in cui lui taglia i capelli a una ragazzina perché all'amica di Jane perché ha dei capelli bellissimi e quindi ovviamente il male il demonio e veramente l'atmosfera è proprio in questi film in questo film in particolare è questa è questa atmosfera qui insomma cupa puritana e tutto cucinato in chiave espressionista che è molto angosciante e quindi sicuramente c'è questo film nella nella mia versione che credo spinga un po' sul pedale del così del del gotico sicuramente della del sadico della così del molto più su questi su questi tasti che non su quello per esempio del femminismo oppure della non perché io pensi che non ci siano dei contenuti che ci sono assolutamente di tipo femminista in genere però forse dal punto di vista mio di desiderio di produrre una versione che avesse un mio sguardo io sono più influenzata da una lettura un'estetica ecco diciamo di questo tipo e ecco poi ovviamente nel bagaglio del del traduttore generalista che sono ci sono anche letture non critiche ma oddio una critica me la ricordo dal mio passato di studentessa ed è un libro molto bello che è uscito credo nei primi anni ottanta e si chiamava the mad woman the mad woman in the attic ed era che Giovanna conosce sicuramente che io ho lessi ai tempi così all'università e sicuramente c'è stata questa influenza ma ancora di più forse parlando di poi quello che hanno generato questi testi anche delle una una certa familiarità con i testi che si sono ispirati a cime tempestose e a Jane Eyre in particolare in particolare quello famoso di Jim Rice il grande il grande mare dei sargassi quindi questo romanzo femminista e postcoloniale che 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 insomma è una specie di espansione della trama di Jane Eyre perché è la storia di Bertha Mason quindi la pazza in soffitta la moglie la prima moglie di Rochester e quindi vista come personaggio appunto trasgressivo in contrapposizione all'istitutrice vittoriana per bene eccetera e poi e poi un altro libro importante per me è stato quello di Maris Condé più recente questo che si chiama in francese se non so allora me l'ero segnato perché poi l'avevo letto in inglese si chiama dunque in inglese si chiama Windward era stato tradotto un titolo bellissimo Windward Heights che gioca con Wuthering Heights Windward perché si svolge alla Guadalupa lei è una scrittrice francofona però originaria della Guadalupa e quindi è una storia di cime tempestose ecco la migration mi è tornato mi è tornato il titolo francese e questo è insomma una la storia ovviamente molto libera di cime tempestose trasposta alle Antille alla Guadalupa ecco questo per dirvi un po' cosa c'è nel bagaglio forse un po' come dire sicuramente eterogeneo forse anche un po' disordinato di un traduttore ecco invece adesso guardo un attimo l'ora perché poi vi volevo far vedere delle cose un po' più abbiamo ancora un'ora quindi dopo vi farò vedere un po' di cose così più tecniche rispetto cioè che vi faranno vedere insomma un po' come come ho gestito dei problemi ricorrenti un altro un altro elemento un'altra parte del mio bagaglio invece è un film che pochissimi hanno visto in Italia un film del 2011 di Cime Tempestose molto meno noto degli ultimi due che sono usciti è un film di Andrea Arnold che è una una regista inglese abbastanza sperimentale e era stato presentato a Venezia questo film appena uscito aveva credo anche vinto qualche premio e però non è mai stato distribuito in Italia probabilmente per insomma perché era troppo effettivamente troppo sperimentale per un pubblico allargato e io sono consapevole di essere stata fortemente suggestionata soprattutto al primo tempo di questo film che ha un inizio un primo tempo quasi muto in cui i personaggi parlano pochissimo ci sono si mostra questo rapporto primitivo dei due protagonisti bambini cioè Heathcliff e Catherine attraverso proprio una gestualità molto forte e il loro rapporto estremo con gli elementi con la natura quindi ci sono molti suoni più o meno sgradevoli un senso proprio molto terroso del territorio il vento nitriti cavalli animali è un film molto bello secondo me se vi capita vedetelo perché è veramente estremamente interpretativo estremamente così coraggioso anche Heathcliff per dire è di pelle nera è ovviamente film girato in periodo in epoca postcoloniale l'altro così quasi l'altro il diverso quasi per forza è altro anche proprio somaticamente ed è una persona di colore ecco quindi questo per dire di alcune cose che mi hanno influenzata invece parlando arrivando ai punti così più tecnici della della mia traduzione che ripeto io adesso vi farò qualche esempio però l'idea di traduzione per me è sempre qualcosa di che deve avere una sua coerenza interna proprio per questo io penso che inevitabilmente una traduzione sia a suo modo debba essere anche interpretativa perché se non c'è un così un un'idea sul libro su come devono devono tornare poi tutti gli elementi è difficile è difficile creare un qualcontesto è difficile fare un'operazione letteraria è difficile creare un qualcosa che non sia semplicemente una traduzione di servizio ma che sia appunto a tutti gli effetti un altro testo un'altra possibilità del libro e quindi io insomma non volevo fare delle dichiarazioni teoriche però avrete capito che sono non sono molto convinta della dell'invisibilità del traduttore ecco penso che ognuno di noi si porti dietro si porti per forza dietro una serie di cose che sono fanno parte ovviamente del nostro bagaglio culturale però anche poi di così realtà elementi anche di tipo affettivo inconscio e via dicendo per cui sparire davvero dietro al testo secondo me è abbastanza utopistico dunque i problemi i problemi e qui qui vengo vengo un po' a questa al titolo che ho dato che ho dato all'incontro la voce e le voci le voci dei personaggi la voce appunto la voce del testo la voce dei personaggi io ho cercato di porre un'attenzione particolare a questo aspetto che appunto sia per una questione che davvero penso abbia a che fare con una coerenza interna alla traduzione e anche per il fatto che molto spesso mi trovo mi sono trovata a leggere traduzioni in passato che non tenevano conto delle differenti cioè per me un problema primario è dare una voce ai personaggi una voce una voce molto connotata che sia che si possa distinguere che sia che sia davvero riconoscibile molto spesso dicevo su traduzioni non parlo di questi testi in particolare ma in genere mi sono trovata davanti a traduzioni che alla fine non mi piacevano e non mi piacevano non perché ci trovavo degli errori eccetera ma perché pur essendo magari traduzioni estremamente corrette avevano un qualcosa di anodino cioè non risuonavano non avevano questa questa risonanza che invece l'originale l'originale ha sempre e quindi insomma io quando quando mi metto a tradurre soprattutto un testo importante cerco di 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 pensarci cerco cerco di lavorare in questo senso ecco qui ad esempio iniziando da Cime Tempestose quello che che accade quello che mi è stato detto è ma ho letto anche da amici da persone che avevano letto il libro magari vent'anni fa mi hanno detto ma non mi ricordavo che fosse un libro così tremendo un libro così così cattivo un libro così crudele violento e effettivamente appunto vi ho detto del bagaglio con cui ci sono arrivata ed effettivamente è è possibile che una serie di cose che nel testo ci sono io le abbia le abbia acquite le abbia o comunque le abbia messe molto in evidenza probabilmente perché come lettrice traduttrice del mio tempo anche un gusto un gusto letterario e per la lingua che va in una direzione appunto del postmoderno cioè mi sembra accettabile e anche interessante tutto ciò che magari è un po' estremo cioè arriviamo a questa a tutto questo dopo aver visto non so i film di David Lynch aver letto aver letto tutta una serie di di letteratura postcoloniale che effettivamente post scusate postmoderna che effettivamente ha o presenta un gusto per le esagerazioni no per così per un uno stile anche corrusco un po' con con dei contrasti così forti e dunque qui c'erano ci sono dei personaggi per esempio Heathcliff ha una sua un suo una sua lingua e anche a parte il personaggio che fa effettivamente una serie di azioni estremamente sgradevoli estremamente violente arriva la necrofilia insomma sappiamo tutte queste cose ma proprio a livello di linguaggio suo nel testo spesso si dice Heathcliff non parla non dice abbaia o latra c'è tutta una sfera semantica che ha a che fare con il con il lupo con il cane che o con il concetto con l'idea del divorare che ruota intorno a Heathcliff e per questo io ho lavorato in questo ho lavorato proprio in questo senso cioè credo di avergli dato una voce una voce che ha questo tipo di sonorità che assomiglia più alla voce di un di un cane che latra e meno alla voce di di un di un essere umano io volevo iniziare allora a farvi vedere a presentarvi i i file allora presenta ora vediamo se ci riesco consenti vediamo se caricando la vedete fantastico vediamo magico magico fantastico allora qualche esempio della lingua di Heathcliff e come io ho cercato di lavorare a volte in modo anche un po' come dire intemperante secondo i miei bravissimi editor ma poi mi hanno abbastanza lasciata libera e allora questo è un dialogo per chi insomma si ricorda un po' il romanzo questo è un dialogo tra Nelly la governante e narratrice principale del libro del romanzo e Heathcliff a questo punto Heathcliff è diciamo a buon è sulla strada insomma a buon punto della sua vendetta ha sposato ha sposato Isabella Linton la sorella di Linton del marito di Catherine e lei insomma è ridotta in questo stato di asservimento ha scoperto chiaramente che il marito l'ha sposata non certo per amore la sottopone a una serie di insomma umiliazioni di vario tipo anche di violenza perché a un certo punto addirittura le tira una coltellata ma insomma qui Nelly sta parlando con Heathcliff e gli dice my young lady is looking sadly the worst for her change of condition I remarked somebody's love comes short in her case obviously whose I may guess but perhaps I shouldn't say a Heathcliff replica I should guess it was her own she degenerates it into a mare's lot she's tired of trying to please me uncommonly early she tired of trying to please me uncommonly early you'd hardly credit it but the very morrow of our wedding she was weeping to go home however she'll suit this house so much the better for not being over nice and I'll take care she does not disgrace me by rambling around allora qui c'è una cattiveria concentrata in questa dichiarazione che veramente fa paura e per esempio io qui questo slut che è una parola molto comune in inglese no normalmente viene tradotto con sgualdrina e slut però ha due significati in inglese il primo significato è di donna sciatta sciattona e qui possiamo ovviamente pensare che Heathcliff si riferisca a questo voglia dire in fondo lui non ha nessun amore per la moglie probabilmente nessun desiderio perché dovrebbe dare e nessun più oltretutto nessun motivo per definirla una sgualdrina e quindi perché dovrebbe darle della sgualdrina penso io ecco c'è anche il fatto che slut ha un aspetto sonoro diciamo esplosivo no che lo rende che lo rende una parola estremamente efficace io ho provato come vedete anzi poi è rimasto così ho azzardato una traduzione questa traduzione che vedete in rosso zambracca allora zambracca ovviamente non ha la diffusione di slatt anzi molti lettori magari non lo capiscono se lo vanno a vedere eccetera però è una è una parola che ha secondo me dei vantaggi allora intanto ha un vantaggio proprio sonoro che a me piace piace cioè si presenta come un insulto cioè anche se uno non la conosce ha una sonorità tale per cui ha secondo me la stessa violenza di slatt e e poi e poi è esattamente speculare al al termine inglese perché ha esattamente i due significati se andate a vedere sullo zingarelli trovate cameriera specialmente sudicia e sciatta come primo significato e come secondo meretrice balgracca ora anche se non si capisce c'è c'è però l'assonanza con balgracca e quindi e quindi mantiene insomma questo questa ambiguità cioè le sta dando della sguadrina o le sta dando della sciattona ecco quindi questo è un così un assaggio di quello che a volte ho fatto anche in modo un po' se vogliamo un po' così forse con una presenza traduttiva troppo marcata qualcuno mi potrebbe dire però davvero perlomeno ecco è rimasta questa ambiguità che secondo me c'è tutta in Slat ma non c'è in Sguadrina che è appunto la traduzione più così più attestata ecco c'è un'altra cosa che mi viene da dire come nota sul metodo quando traduco un testo del passato io mi sento su un crinale per cui da una parte ovviamente c'è il lettore odierno a cui devo restituire non una ma due tipi di alterità o estranetà una è il testo nella lingua straniera e l'altro è l'elemento temporale io ogni tanto ci tengo cioè mi viene da come dire strizzare un attimo l'occhio al lettore e ricordargli sto traducendo un testo scritto 200 anni fa e immagino che tu ti aspetti un linguaggio di 200 anni fa quindi queste diciamo pennellate inusuali anche quindi anche l'uso di certi termini così desueti e apparentemente stravaganti mi in qualche modo mi fa mi fa gioco non so mi è utile è funzionale a a sottolineare cioè a portare il lettore su questo terreno ecco non so non so quanto io riesco a farlo in modo così efficace ma ecco ci provo e questo questo era uno dei fai una degli esempi poi ve l'ho fatto vedere anche perché è diventato un tormentone tra me e le mie amiche traduttrici perché si così il traduttore appunto qualcuno dice in pigiama eccetera e quindi ormai diciamo sei vestita come una zambracca oggi mi sento proprio una zambracca insomma è diventato lessico se non familiare ma amicale di un gruppo di traduttrici perlomeno milanesi che io frequento allora la questione della trasmissione del passato che passa scusate qui faccio un c'è tutto un visticcio linguistico passa anche per l'uso dei tempi verbali almeno per quanto riguarda noi che traduciamo dall'inglese e che abbiamo questo problema annoso che è da una parte decidere l'uso del tempo principale della narrazione cioè mi spiego il passato remoto o il passato prossimo allora a me capita sempre di più quando traduco i contemporanei di usare a volte anche proprio come tempo della narrazione non è automatico ma insomma a seconda dei testi di cosa mi dicono i testi mi capita di usare effettivamente qui mi dicono di interrompere sì dovresti perché ma dovresti ecco pigiare ecco grazie grazie allora dicevo anche con testi contemporanei mi capita effettivamente di decidere che il tempo della narrazione è il passato prossimo ne discutiamo continuamente noi traduttori perché qualcuno qualcuno lo trova molto pesante come tempo da usare per la narrazione qualcuno accusa noi traduttori del nord di usarlo perché al nord non sappiamo non sappiamo usare il passato remoto qui siamo comunque abbiamo una grande familiarità col passato prossimo diciamo l'anno scorso sono andato a Roma in modo del tutto disinvolto io ma io io lo uso lo uso ma uso anche il passato remoto qui siamo siamo allora qualcuno forse voleva già fare una domanda abbiamo qualche domanda nella chat allora dunque ecco sulla punteggiatura sì Luca Spiniello sì ma allora la punteggiatura traducendo dall'inglese spesso non lo so io sono parlo parlo per me non mi piace dire cose generiche io sono un tipo di traduttrice che smonta io cerco di tenere tutto però io smonto le frasi le rimonto e soprattutto quando la frase tenuta così come in inglese mi suona come un calco e non amo i calchi insomma sono credo di avere sviluppato un orecchio molto insofferente al calco per cui in questo smontaggio che è una cosa che io faccio per rendere l'italiano più italiano succede ovviamente di dover cambiare la punteggiatura perché per forza insomma funziona in un altro modo sì sì vedo che con l'inglese capita spesso di cambiarla sicuramente a me capiterà molto ecco non ci avevo mai pensato ma proprio per il fatto che io giro spesso le frasi sì sì ecco per tornare invece al problema del grazie grazie a lei o a te insomma al problema del dei tempi qui siamo sui classici quindi uno direbbe che bello non c'è problema è evidente e anche io in modo del tutto pregiudiziale quando mi sono messa a tradurre soprattutto cime tempestose perché è quello che pone invece un problema di tempi narrativi più di genere ho detto che bello non ci sarà non c'è questo problema insomma spesso di difficile soluzione è chiaro che il tempo della narrazione è il passato remoto e assolutamente no e adesso vi faccio allora cime tempestose per chi se lo ricorda e per chi invece non l'ha letto non se lo ricorda è narrativamente una specie di gioco delle scatole cinesi cioè c'è un narratore iniziale che è come il primo la prima scatola il primo involucro che non è tra l'altro il narratore principale il narratore principale viene dopo quindi c'è questo narratore che inizia a raccontare che va insomma affitta la casa di Heathcliff inizia in un presente lui diventa l'inquilino di Heathcliff e parla un po' del presente dopodiché inizia la narrazione vera e propria che è la storia di Heathcliff e Catherine e poi della morte di Catherine del degrado della casa di Utherin Heights tutte le varie vicende e questa seconda narrazione viene offerta a Lockwood da Nelly che è la governante e quindi lei è la narratrice principale diremmo la narratrice che per forza parla al passato remoto dopodiché all'interno della narrazione di Nelly ci sono tante piccole isole narrative in cui magari ci sono delle lettere che vengono che qualcuno scrive c'è una lettera di Isabella Linton che è molto lunga ed è parte della narrazione perché lei racconta quello che quello che succede per un certo periodo di tempo per una lettera e quindi le convenzioni stilistiche di una lettera vi porteranno magari non verso il passato remoto ma verso il passato prossimo e via dicendo questo questa cosa molto complessa ed è veramente un romanzo molto complesso per dal punto di vista così di questi incastri temporali e questa difficoltà è già evidente all'inizio proprio nell'incipit che vorrei farvi vedere come ho risolto e ne sono anche abbastanza contenta perché era non era di facile soluzione allora ve lo faccio vedere presenta ora il tuo schermo intero consento e ed ecco qui lo vedete? sì sì perfetto allora questo è l'incipit potrebbe essere una pagina di diario forse perché inizia con una data little imagine how my heart wore towards him when I beheld his black eyes withdraw so suspiciously under under their brows as I rolled up and when his fingers sheltered themselves with a jealous resolution still further in 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 his waist waist coast coat as I announced my name Mr Heathcliff I said an odd was the answer Mr Lockwood your new tenant sir I do myself the honor the honor of calling as soon as possible after my arrival to express the hope that I have not inconvenienced you by my by my perseverance in soliciting the occupation of trust trust branch I heard yesterday you had you have had some thoughts Allora qui iniziamo con un presente vedete che è tipico di una di una pagina di diario potrei di uno stile diaristico sono appena tornato da una visita al mio padrone di casa l'unico vicino che mi toccherà sopportare certo la contrada è bellissima non credo che in tutta l'Inghilterra avrei potuto scegliere un luogo più isolato dal trambusto del mondo un paradiso per veri misantropi e signor Heathcliff e io siamo una coppia ideale per condividere una tale desolazione che fenomeno d'uomo non si immagina nemmeno l'affetto che ho provato per lui quando ho visto i suoi occhi neri ritirarsi insospettiti sotto le sopracciglia mentre mi avvicinavo al cavallo a cavallo e le sue dita nascondersi risolute e gelose ancora più a fondo dentro il panciotto quando annunciai il mio nome e poi va avanti con il passato remoto il signor Heathcliff dissi il cielo del capo fu la risposta eccetera quindi qui c'era il problema di allora dopo il presente quando è abbastanza naturale no dire non si immagina nemmeno l'affetto che ho provato per lui quando ho visto i suoi occhi e fin qui ci siamo dopodiché il problema è che tutta la narrazione lunga tutto il capitolo richiede cioè il passato prossimo non sta davvero in piedi quindi si pone il problema del punto in cui passare al passato remoto e poteva essere qui poteva essere al secondo capoverso il signor Heathcliff dissi poteva essere qui poteva essere anche più avanti quindi io l'ho messo qui cioè dentro all'interno di una frase che inizia col presente prosegue con due passati prossimi e finisce così con questo annunciai perché secondo me qui è un fatto un po' diciamo così estetico quasi cioè secondo me è un fatto formale ho i tre tempi in un'unica frase e dal punto di vista insomma dell'estetica della bellezza della frase della pagina qui forse questo scivolare questa sorta di piroetta al passato remoto in questo punto me lo rende più come dire da una parte meno percepibile quindi più naturale anche questa è la mia impressione ed è vero che qui io il passato prossimo non sarei riuscita a sostenerlo a lungo perché poi è pieno di dissi che ho detto ho detto così davvero sono cose che in un testo magari molto molto contemporaneo va bene ma qui non funziona e quindi da una parte mi sono tenuta questi passati prossimi che hanno che sono funzionali a questo inizio appunto così di racconto diaristico e il passato prossimo a me piace molto un po' perché ovviamente è il tempo del passato dell'italiano che parlo io ma poi trovo davvero che abbia delle risonanze come dire affettive particolari cioè secondo me è un tempo che avvicina non solo perché avvicina perché è vicino perché il tempo è vicino ma proprio avvicina perché io ti racconto qualcosa in presa diretta te lo racconto al passato prossimo e come dire è un racconto è un racconto che ha più a che fare con l'oggi ha più a che fare con le mie emozioni è un qualcosa di meno formale insomma a me piace mi piace molto e io quest'estate spesso in estate leggo leggo molto di più soprattutto quando sono in vacanza e non traduco finalmente ho tempo per leggere non per lavoro mi sono riletta un po di cose italiane del novecento e secondo me è un occhio alla narrativa italiana del novecento che pensandoci per noi è davvero il secolo del romanzo perché l'ottocento italiano ha pochi a pochi esempi ecco secondo me un occhio a questo tipo di narrativa aiuta in questo senso cioè vedere cosa hanno fatto i grandi scrittori del novecento non so penso a Fenoglio a Buzzati con la sintassi italiana è molto liberatorio cioè io ho in mente adesso delle frasi di Buzzati dove all'interno della stessa frase io trovo tre o quattro tempi verbali diversi o nello stesso capoverso e l'italiano è effettivamente una lingua estremamente flessibile in questo senso molto più molto più del francese forse secondo me imparare a usarlo in traduzione dico in maniera oculatamente libera potrebbe aiutare a produrre delle traduzioni che non soffrano di quella lingua così perfettina perfettina un po' scolastica pastorizzata che spesso viene anche richiesta dalle case editrici ma la quale secondo me bisognerebbe un po' resistere anzi non un po' bisognerebbe resistere lo dico, non so, penso che ci siano anche parecchi studenti o degli studenti qui a sentire io passo una gran parte del tempo, delle ore che ho a disposizione di insegnamento per estirpare dai miei studenti quella che Calvino chiamava l'antilingua questa lingua carica di congiuntivi, di formule, non perché il congiuntivo sia il male ma questa sovrabbondanza di congiuntivi, di questo italiano rigido è difficile perché più è difficile, più è corretto, più la parola è astrusa, più la formula è complessa e meglio parlo l'italiano insomma è un lavoro tra l'altro che dovrebbe essere fatto molto prima ma mi arrivano alla laurea magistrale arrivano studenti magari anche bravi che però hanno proprio un problema con la scrittura ancora prima che con la traduzione perché non riescono, non hanno dimestichezza con un italiano che è l'italiano letterario, non è l'italiano scolastico quindi si permettono molto poco, io sono convinta che insomma bisogna allargare le possibilità della lingua e così cerco di farlo, spero di farlo in maniera convincente l'ultimo dunque poi altri, allora adesso esco e interrompi presentazione dunque poi altre cose i tempi verbali l'ho detto beh in Cime Tempestose una grossa difficoltà è quella della traduzione della lingua della servitù cioè questo idioma, questo dialetto del West Yorkshire che è molto vicino allo scozzese e quindi bisogna quantomeno dopo rispondo, finisco un attimo questa cosa poi rispondo alla domanda questa lingua che bisogna in un qualche modo segnalare al lettore che lì c'è un cambio di registro non lo possiamo fare ormai è abbastanza acquisito nel dibattito sulla traduzione che non si possono usare i dialetti perché è evidente il perché insomma perché non tutti gli italiani li capiscono ma anche se li capissero sarebbe assolutamente incongruo un dialetto siciliano o bresciano in bocca a un personaggio a un domestico dello Yorkshire quindi i dialetti non li usiamo che cosa facciamo però? cioè dobbiamo comunque segnalare questa cosa e devo dire che in molte traduzioni il traduttore non lo fa non l'ha fatto perché? lo capisco perché perché è difficile farlo io ho cercato di inventarmi un po' una lingua soprattutto per... che non è dialettale però fa un uso forte di espressioni così colloquiali anche un po' strane un po' desuete anche queste un po' vecchiotte un po' invecchiate non proprio le nostre qualcuna sì ma insomma non espressioni della lingua standard e anche beh questo personaggio anche qui per chi ricorda il libro è un personaggio molto particolare fortemente grottesco che così viene fuori come una sorta di lui è una specie di coro di quello che succede un po' come il coro greco che dice quello che succede in questa casa degenerata dove tutti si comportano malissimo e non hanno timore di Dio eccetera quindi è una metà tra un pastore pastore protestante un po' bislacco che forse anche alza un po' il gomito perché poi il suo prediletto che è Hindley che è il fratello di Catherine è quello che che poi viene distrutto e muore viene distrutto come persona da Heathcliff e lui è un alcolizzato vero e quindi è presumibile che anche il suo il suo domestico insomma faccia uso di alcolici in modo piuttosto generoso quindi io gli ho inventato ho cercato di cucirgli addosso questa lingua appunto un po' un po' tra stralunata ecco che che se il tempo lo consente vi faccio vedere un attimo e poi però lascio il tempo per le domande eh eh allora vedete solo le parti in rosso perché abbiamo poco tempo però vedete subito che insomma non è inglese cioè è è davvero eh anche a un inglese può essere così eh non ovvia questa dizione anche se poi vabbè ci si arriva ehm quindi io ho usato per esempio qui eh questo mim 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 non so come sia di devil christian body eccetera eh questa frase eh dunque questo mim 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 a me sembrava un credo insomma che sia proprio un verso non l'ho trovato nei dialetti anche di scotz che avevo a disposizione non l'ho trovato quindi io ho messo un gnie gnie e Joseph che se la prende con la solita Isabella che è un po' capra espiatore di tutto ma dico io è parlare da cristiani questo c'è bisogno di mangiarsi le parole qui sono pentita perché ho scritto come si fa a capire una che parla così io forse adesso azzarderei addirittura un perché non parli come mangi lui tra l'altro le dà del tu nel suo nella sua follia anche se lei ovviamente appartiene alla classe dei insomma è la moglie del padrone quindi ho cercato di usare molte forme così che gli altri non usavano per esempio se adesso ci tocca prendere anche altri ordini proprio quando cominciavo a farci il callo ad avere due padroni con neanche queste dislocazioni farci il callo se adesso mi tocca anche star sotto a una donna è proprio ora di far fagotto insomma ho usato questo questo gergo un po' un po' contadino un po' così che spero gli abbia dato abbia dato a queste sue frasi una coloritura un po' un po' diversa poi appunto lui dà del tunnel su cioè queste sparate tremende che fa contro i padroni perde proprio la tremisonda e perde completamente il rispetto vedo l'ora che è avevo altre cose da dire ma insomma mi sembra giusto lasciare del tempo a voi quindi adesso tolgo Giovanna c'era c'era una domanda vedete ordini tu le cose anche con la chat io la vedo la chat allora ho Simone Mercati Antonella Albanenzi no dunque qualcosa io Daniele mi dà manforte ma per forza ci conosciamo Daniele Zonghetti e Claudia non li consideriamo perché perché sono di parte una domanda ecco Luca Spinello non ho già risposto Simone Mercati volevo tornare sulla parola Zambraccae dato che sembra essere una variante regionale non avrebbe avuto lo stesso effetto l'uso della variante più comune Baldracca la dizionario sembrano essere sinonimi perfetti e nell'accezione comune il primo significato che viene in mente è prostituta non avrebbe avuto lo stesso effetto straniante che avrebbe allora secondo me sì ovviamente era una scelta assolutamente legittima io ho preferito Zambracca proprio per l'opacità del termine cioè perché è più dato che è un termine meno conosciuto cioè Baldracca è vero che ha entrambi i significati però lo usiamo tutti solo nel secondo significato almeno questa è la mia così esperienza del linguaggio comune mentre Zambracca proprio per il fatto che è una parola che pochi hanno sentito a parte che c'è la Z che è più violenta secondo me come è una parola in un qualche modo che proprio per il fatto di essere più più esotica mi risulta anche più più violenta e più ambigua più ambivalente e questo è il motivo per cui Zambracca e non Baldracca ah ecco il tu e lei qualcuno aveva da no no sulla sulla Zambracca e la Baldracca volevo siccome quello che volevo dire alla fine della tua bellissima chiacchierata era proprio che ci hai dato una serie di esempi di quella che io apprezzo molto che chiamerei la visibilità del traduttore cioè il traduttore che scuote la lingua d'arrivo che la fa sussultare e in questo caso appunto altrimenti non ci si diverte il traduttore cioè tutto il giorno tutto il giorno anche io anche per me la prima reazione era stata vabbè abbiamo Baldracca perché questa cosa strampalata di Zambracca e poi invece mi convince molto perché appunto perché scuote il lettore come scuote il personaggio anche attraverso questa parola esce la violenza di Heathcliff quindi volevo dire grazie quindi ho l'endorsement vostro sono a posto ecco giustamente Paola Molica 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 penso e fa un gioco io di questo volevo parlare ma poi ho esaurito il tempo il problema del pronome delle forme di cortesia tu lei voi l'uso del tu nella prima traduzione da lei proposta forse per l'abitudine di leggere nei testi più datati un vasto uso del voi anche tra personaggi in confidenza o con stretti rapporti di parentela qual è il suo criterio di scelta per la traduzione di you in particolare in un testo del XIX secolo allora il criterio di scelta è scegliere di volta in volta faccio un esempio non necessariamente nelle mie traduzioni di quel periodo cioè che sono recenti il voi compare meno che in quelle più datate per esempio in Jane Eyre c'è un uso dispari del tuo del voi tra Jane e Rochester quando Rochester corteggia Jane prima del matrimonio che poi va a monte c'è un momento particolare in cui lei è reduce da un'acquazzone entra in casa una scena molto erotica per i tempi è tutta bagnata e lui a un certo punto la abbraccia in quel momento inizia a darle del tuo ovviamente perché c'è un contatto fisico lei però continua a dargli del voi cioè lei gli dà del tu molto più avanti perché è evidente la sua parte la disparità così sociale tra i due ma poi c'è anche il fatto che lei è molto molto attenta a quello che sta succedendo cioè ci sono delle avvisaglie per cui questo in soffitta c'è un'altra moglie insomma sta venendo fuori questa storia quindi oppure oppure tra i bambini all'inizio sempre di Jane Eyre il tu viene usato il tu non è a volte non è un tu affettivo ma è un tu di disprezzo dei domestici nei confronti di Jane ma non nei confronti degli altri bambini dei bambini della zia Reed qui c'è un grosso arbitrio del traduttore effettivamente ma bisogna decidere no? bisogna decidere quando e quando ci si dà del tu quando ci si dà del voi da quando inizia e chi dà del tu e chi dà del voi a chi quindi a seconda un po' di una lettura che ripeto per me è sempre una lettura globale del testo io decido di volta in volta se è il tu o se è il voi diciamo che per testi di questo periodo un contatto fisico tra due persone spesso implica un passaggio al tu i bambini però è anche vero che per esempio i bambini a volte in certe traduzioni mie danno del voi anche ai parenti grandi e questo se uno si è fatto raccontare dai nonni dai disnonni io so che mio nonno dava del lei forse a sua madre non del voi ma del lei quindi c'è anche il fatto che in un testo che in un'azione che si svolge al passato è accettabile anche per un lettore contemporaneo vedere un bambino che dà del voi alla mamma perché è vera questa cosa poi che succedeva quindi non è un voi così di comodo e si va avanti col voi tutto il tempo dunque poi c'è Antonella Albanesi complimenti me li prendo c'era anche Ilenia Fioretti che forse ah prima due domande sì hai ragione hai ragione sì quali sono le maggiori differenze a livello linguistico che ha trovato nel tradurre Emily e Charlotte Blonte in qualche modo tradurre prima Jane Eyre l'ha aiutata con cime tempestose ha avuto difficoltà nel trovare le parole le espressioni giuste per esprimere ma la violenza no non ho trovato difficoltà perché io l'ho letto cioè io l'ho letto così come un romanzo terribile di violenza e sopraffazione e molto perturbante quindi io in modo abbastanza naturale ho dato questa lingua ai personaggi che se ne fanno veramente di tutti i colori cioè adesso Heathcliff è l'esempio più lampante però anche Catherine è tremenda cioè è veramente sadica anche lei cioè hanno un rapporto un rapporto devastante e quindi allora sulla difficoltà la differenza ma Genère è un romanzo molto più nella tradizione vittoriana è un tipico cioè un romanzo bellissimo che io amo moltissimo però rientra molto nel canone del romanzo vittoriano in cui c'è un personaggio che parte da una certa posizione anche sociale così svantaggiata e e avanza avanza insomma è un po' la parabola della borghesia e e arriva a un certo punto fa mi viene da dire è una ragazza che fa strada Jane no in tutti i sensi che si muove da un punto a un altro e e arriva a una condizione così se non ottimale comunque lo stesso Rochester allora qui la possiamo vedere anche in senso femminista lo stesso Rochester ne fa di strada perché torna indietro cioè a un certo punto si incontrano lei si prende questo marito eh facoltoso a questo punto libero innamorato eccetera e lui lui però nel frattempo ha perso un po' prima era un maschio alfa adesso è diventato un po' è tutto un po' bruciacchiato ustionato un po' un po' manomesso diciamo quindi ridotto a proporzioni insomma ridotto a proporzioni umane e non da maschio alfa e tutto il linguaggio di Jane Eyre è meno strano meno straniante di quello di Cime Tempestose Cime Tempestose è un libro un libro veramente molto più sperimentale quindi penso che anche così sul piano della traduzione io probabilmente ho usato molto di più mi so appunto ho fatto queste cose che vi ho detto cioè ho fatto in certe frasi ho messo diversi tempi verbali che apparentemente sono in una narrazione così piana non sono incongrui ma appunto perché ho sentito la grande sperimentazione che c'è in questo testo che veramente anticipa anticipa uno sperimentalismo che poi è quello del Novecento quindi credo così per dare una risposta un po' generica è un ho usato di più sicuramente e sì è un libro più difficile da tradurre e dunque cerco di rispondere al resto Antonella Albanesi Antonella Albanesi Altra nostra L'Alma e Little Lamb to Sleep e sì sarebbe stato bello forse in quel momento non mi è venuto forse era un momento di pigrizia traduttoria però è vero sarebbe stato bello tenere dell'alliterazione cioè ninnare che insomma in un qualche modo ha un che di così se non onomatopeico ma è questo linguaggio un po' affettivo un po' che si usa con i bambini però però potevo fare di meglio sì lasciare il catechismo all'inglese originale catechismo che precede lungo e bellissimo botte risposta dunque io questo non me lo ricordo non me lo ricordo neanche questa cosa del catechismo io in questo momento non me la ricordo tenete conto che io l'ho tradotto tipo quattro anni fa e poi è uscito più di recente credo che possa Antonella Albanesi prendere la parola no fa dei gesti grammatici Antonella buonasera buonasera perché siccome il personaggio di Nelly di Ellen la governante è ironico è tagliente la traduzione di catechismo con catechismo la rende apparentemente sembra renderla un pochino più buona quando invece lei vuole proprio provocarla e allora forse tra me e me pensavo all'interrogatorio all'inquisizione a una cosa di questo tipo ma catechismo sicuro significa anche anche quello siccome mi ha colpito molto quando lei prima ha detto io voglio personalizzare dare il mio punto di farci e la mia presenza mi domandavo se da parte sua ci fosse stata una un'esitazione a cambiare cioè a scegliere magari una parola più conforme al carattere di Nelly io però ha lasciato catechismo perché io non me lo ricordo mi aiuti io ho lasciato catechismo si ha lasciato catechismo proprio come catechismo nell'originale comunque tornando a prima è bellissimo anche il il ninnare cioè anche la resa sua la mia era soltanto una no però ha ragione però ha ragione bisognerebbe cioè mi sarò posta al problema è chiaro che se fosse stata una poesia un breve testo me lo sarei posto in modo su 300 passapagine è chiaro che il traduttore ogni tanto getta la spugna perché letteralmente non ce la fa più o non ce la fa non gli viene in mente poi gli viene in mente a libro stampato succede una cosa di questo genere la traduzione che avevo letto quando ero più giovane questa ha il grossissimo vantaggio di riuscire come accennava lei prima a scavare molto di più nella nella psicologia dei personaggi che sono veramente stranissimi cattivissimi inquietanti sì sono sono tutti belli cattivi sì o quantomeno anche quando non sono dichiaratamente cattivi sono sono ambivalenti traduzione dei romanzi di Shirley Jackson ho letto amato le sue traduzioni anch'io ho amato perdutamente Shirley Jackson che rapporto ha avuto con questi testi ma Shirley è un'altra di una cattiveria tremenda di una che come diceva Stephen King non ha mai avuto bisogno di alzare la voce perché ha questa cattiveria sotterranea questo gotico così molto sussurrato che però mette i brividi io mi trovo bene con questo tipo di testi ogni tanto mi faccio delle domande sulla mia tenuta morale perché amo molto tradurre questo tipo di di cose mi vengono credo anche discretamente quindi non lo so allora in un articolo delle traduttrici sento una voce no andava in un articolo delle dunque Paola Bellomi in un articolo delle traduttrici spagnole di Emily Dickinson forse Emily Emily Bronte o Dickinson va bene Emily Dickinson rifletteva sull'importanza riflettevano sull'importanza di rispettare il genere anche quando sembra essere neutro in concreto nelle poesie di Dickinson hanno proposto una traduzione in spagnolo al femminile quando l'inglese era neutro in contraposizione con la scelta del traduttore italiano che ha preferito il maschile con il risultato che in spagnolo il poema denuncia l'incesto subito da Dickinson mentre nella traduzione come mi pongo rispetto al genere neutro dell'inglese come mi pongo dipende so che non è una risposta soddisfacente non parto mai allora io ho delle mie idee su che sono cioè le idee mie come persona sull'uso di questi del neutro per esempio invece del maschile del femminile ci sono ambiti in cui mi sembra giusto e auspicabile applicare per esempio usare il neutro non lo so mi è capitato di mi è capitato una volta di tradurre una poesia e per ragioni in cui c'era la parola poeta ed era femminile per ragioni non solo ideologiche ma anche fonetiche fonologiche funzionava funzionava per me molto bene la parola poeta anche se era femminile allora se queste due cose vanno insieme va bene però se non vanno insieme nel senso che il risultato che in questo momento si produce perché poi la lingua magari fra dieci anni non c'è più il problema di di suonare ideologici eccetera a un certo punto si dirà la poeta e nessuno e nessuno si chiederà più perché per come in questo momento cioè nella mia funzione provvisoria di traduttrice se una cosa un l'usare il genere neutro o il femminile al posto del maschile mi suona appunto pensato ideologico programmatico non lo faccio però sono molto cioè se scrivessi un articolo sarebbe un'altra cosa oltretutto parliamo di cioè questi testi sono stati scritti quando non c'era assolutamente questa cioè quando non c'era questa discussione in atto no quindi mettergli questo non so cappellino ideologico ma boh non no non lo faccio non lo faccio però se funziona se è bello lo faccio ecco io parto da cioè mi importa più che altro questa questa cosa qua vedo un'ultima domanda da parte di un altro allievo del master Federico Carciaghi nella scelta del voi per i personaggi ci può essere un'influenza dei dialoghi delle trasposizioni cinematografiche dove forse è più presente questo uso allora sull'uso del voi abbiamo discusso qui a Milano e forse anche anche in altri luoghi con una storica della lingua molto brava che ha scritto un libro secondo me molto utile per chiunque si occupi di traduzione che è Maria Rosa Bricchi che ha scritto La lingua è un'orchestra adesso non ricordo esattamente il sottotitolo è tipo una grammatica per uso dei traduttori insomma una cosa del genere dove appunto lei fa questo discorso sull'antilingua sulla lingua della traduzione allora il voi lei per esempio dice che il voi non si dovrebbe usare si dovrebbe usare lei perché storicamente nell'ottocento si usava lei cioè il voi è venuto dopo comunque lei era la forma la forma la forma cioè la la formula di cortesia più alta più cioè più rispetto si tributava all'interlocutore e più gli si dava del lei poi al voi poi c'è il voi che era intermedio e poi il tu sì ecco mi mettono i colleghi mi mettono insomma le informazioni bibliografiche sul libro della della bricchi sì il voi io ho cercato di proporlo quando la traduzione era in fieri perché proprio in quel periodo si discuteva con Maria Rosa di queste cose e Enrico che Enrico Ganni che vabbè non è più con noi e anch'io un momento un po' di commozione come Claudia e lui mi aveva detto ma ma no però però il lettore è abituato così cioè facciamo una cosa una cosa troppo come dire troppo già mi aveva mi aveva concesso Zambracca mi aveva concesso una serie di 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 cose un po' pirotecniche questo voi è rimasto voi però si sta molto discutendo su questa 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 opportunità di continuare a usare il voi quando si traducono i classici e oppure come sarebbe storicamente più corretto usare il lei perché il voi arriva arriva dopo in italiano arriva nel novecento e passa ecco e credo io allora siamo abbiamo sforato moltissimo la nostra pretesa di essere sempre perfetti con con gli orari ma è stato uno sforamento assai piacevole allora io se siete d'accordo darei ridarei la parola a Giovanna a Giovanna Mocchi a chiudere io semplicemente vi ricordo che la settimana prossima avremo Lorenzo Flabbi all'officina e da questo momento in poi non dico più nulla e lascio completamente la parola a Giovanna Mocchi e a Monica Pareschi sì Giovanna Mocchi che dirà davvero due parole per ringraziare Monica di questo percorso entusiasmante verso appunto le spicolosità a parer mio necessarie delle della traduzione in particolare della sua traduzione staremmo qui io starei qui ancora a lungo perché le domande poi vengono le curiosità ma è così naturalmente come Andrea ci dice abbiamo sforato quindi non mi rimane che salutare tutti e ringraziare davvero calorosamente Monica per questa per questa bella bella riflessione che ci fai fare che ci farai fare per esempio la questione di lei vuoi per chi traduce dall'inglese lei vuoi tu e i tuoi passaggi tra il vuoi e il tu tra l'altro sono molto interessanti in Cine Tempestore insomma ci sarebbero tante cose ancora di cui parlare questo è un segno che è stato una bella un bel incontro grazie e grazie a tutti e buonasera a tutti grazie a voi davvero grazie arrivederci grazie Monica grazie a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti